ciao come va? bene! guardate un po' mensa della fraternità insomma qua chi non ha una famiglia e non ha il pranzo del mezzogiorno diciamo che abbiamo una soluzione a mezzogiorno mangiare venire a mangiare qua chi è povero oppure con una famiglia e si è creato una mensa cioè mezzogiorno si mangia qua ed è un aiuto per i poveri diciamo così ed è dietro all'ospedaletto di santa margherita vedete bene l'ospedaletto guardate bene vedete dove siamo è nata una cosa buona per noi per gli ultimi diciamo